Luigi Scrosoppi A 23 anni a Udine, dove era nato il 4 agosto 1804 e fu assegnato come aiutante del fratellastro nella casa delle Derelitte, che accoglieva ragazze povere e abbandonate, 95 come interne e 230 come esterne, che imparavano a leggere e scrivere, a ricamare e a fare lavori domestici. Incaricato di formare le maestre volontarie che si occupavano dell'assistenza e dell'istruzione delle ospiti, col tempo egli riuscì a trasformare il loro volontariato in una scelta di vita, riunendoli in una congregazione religiosa che, iniziata nel 1837 a Udine, nel 1845 assunse la denominazione definitiva di Suore della Providenza, attirando ben presto numerose vocazioni. A 42 anni anche Don Luigi entrò fra gli oratoriani, diventando loro preposito nel 1845, poco dopo la morte di Carlo. Nel 1866 le leggi eversive, varate dal governo dopo l'unità d'Italia, sorpresero la comunità dei Filippini, ma Don Luigi riuscì a far restare le sue suore. Instancabile nel suo zelo, a proprie spese fece abbellire la facciata della chiesa di Santa Maddalena, fondò a Orzano una scuola gratuita, aprì una casa per ex allieve e serventi, bisognosi di riposo e di assistenza, sostenne il giornale del popolo, fondò a Udine un istituto per sordomute, aiutò le clarisse, che erano molto povere, concorse a creare il collegio Giovanni da Udine, aiutò l'opera dei sacerdoti poveri, Beneficò i chierici bisognosi del seminario e contribuì a promuovere un'opera per sacerdoti missionari vecchi e malati. Dopo una lunga e dolorosa malattia, lo Scrosoppi morì il 3 aprile 1884, fu beatificato da Giovanni Paolo II nel 1981 e da lui canonizzato il 10 giugno 2001.